A Rimini è addizionale IRPEF più bassa in regione tra le più basse in Italia, la media è di 45 euro l'anno e quanto emerge dal servizio pubblicato sul Sole 24 Ore che in una tabella raffronta l'importo dell'IRPEF tra i 108 capoluoghi provinciali italiani relativo al 2013. Un'addizionale totale composta dalla somma dell'IRPEF statale, da quella regionale infine da quella comunale che pone Rimini con una media di 45 euro l'anno tra le amministrazioni comunali che applicano una liquota più bassa a livello nazionale. La più alta con 181 euro è quella di Parma seguita da Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Piacenza, Reggio Emilia e Forlì. 273 euro sono poi quelli dovuti per l'addizionale IRPEF regionale mentre ammontano 3.436 euro quelli pagati dai riminesi per l'IRPEF statale per un totale di 3.754 euro. Sono dati che confermano la linea adottata dall'amministrazione comunale nel momento d'approvazione del bilancio ha commentato l'assessore alle politiche finanziarie Gianluca Brasini ovvero che quando siamo noi comune di Rimini a decidere in maniera autonoma siamo il soggetto istituzionale che tiene le tasse per i propri cittadini più basse un'addizionale comunale definita al 3 per mille con una fascia di esenzione a 17.000 euro che come risultato porta a rendere esenti 63.000 riminesi di cui l'80% pensionati e dipendenti. Precisa Brasini è stata ed è una nostra scelta ben definita nel momento in cui la crisi aggredisce arriva alla carne viva delle comunità la priorità di Rimini va nella direzione di contenere al massimo la contribuzione di competenza anche per cercare di alimentare il ciclo dei consumi in questo modo si cerca di dare ossigeno alle famiglie all'insieme del sistema produttivo non dimentichiamo l'agevolazione e l'introduzione da questo della no tax area per le nuove attività detto ciò sul piano più generale aggiunge Brasini andrebbe fatto un altro discorso parallelo alla gradatoria del sole 24 ore e cioè che le addizionali IRPEF sono simbiotiche il reddito imponibile dichiarato che vede storicamente il territorio riminese al gradino più basso in regione tra i più bassi in tutto il centro nord non è un mistero che l'incidenza dell'evasione fiscale sia da sempre elevata e tra i tanti motivi per cui essa va combattuta e con tutte le forze conclude Brasini ci sono anche gli effetti perversi indotti dall'accesso paradossalmente agevolato ai servizi pubblici fino alla tassazione legata alla dichiarazione dei redditi che pesa più su alcune categorie di cittadini che su altre